Nuovo allarme lanciato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto alla presentazione del programma nazionale ESITI, realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. La curva dei contagi sta risalendo in modo significativo e abbiamo bisogno ancora di batterci con energia, ha detto Speranza, che poi sui vaccini spiega, sono settimane in cui abbiamo una campagna vaccinale da accelerare, che oggi ha numeri che vanno in una direzione giusta ma che devono ancora crescere e allo stesso tempo abbiamo un'epidemia molto forte e presente sui territori. Da questa settimana aumenta il numero di studenti che svolgeranno le lezioni da casa. Secondo i dati di tutto scuola, degli 8,5 milioni di iscritti, oltre 3 milioni di studenti saranno in didattica a distanza. Si tratta di un alunno su tre, 800.000 bambini della scuola dell'infanzia e primaria, quasi mezzo milione di alunni delle medie e 1.800.000 studenti delle superiori. Il record negativo spetta alla campagna, dove 994.993 alunni rimarranno a seguire le lezioni da casa. Tutti a scuola invece i 207.268 alunni della Sardegna, dichiarata zona bianca. Il ministro del turismo Massimo Garavaglia si è preso l'impegno di distribuire il prima possibile i 950 milioni di euro già stanziati. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio 24, Garavaglia ha detto Si apre a Pasqua se ci sono le condizioni per farlo in sicurezza. C'è una discussione aperta sul passaporto sanitario, ma ci vogliono soluzioni comuni in Europa. Le vaccinazioni devono accelerare. Abbiamo perso mesi ed è difficile recuperare. Il ministro poi non mette in dubbio la possibilità di andare in vacanza quest'estate. L'anno scorso in estate abbiamo avuto la possibilità di andare in vacanza. Quest'anno si ripeterà quello che è stato l'anno scorso. Diverso è il discorso per gli stranieri. Bisogna lavorare a livello europeo per una mobilità in sicurezza. È passato un mese dalle entrate in vigore dell'etichetta d'origine made in Italy su salami, mortadella e prosciutti. E secondo un'analisi di Coldiretti, le quotazioni dei maiali nazionali registrano un balzo del 10%. Secondo Coldiretti, ora è necessario intensificare i controlli sugli scaffali di negozi e supermercati, per garantire l'effettivo rispetto dell'obbligo di indicazione di origine su tutti i prodotti a base di carne e di maiale, per tutelare consumatori, allevatori e le stesse aziende di trasformazione.